Stanco di spendere così tanto? L'alternativa c'è. Stampanti e multifunzioni in vendita e noleggio. Bentornati ad un nuovo appuntamento con le previsioni del tempo. Diamo uno sguardo insieme alla situazione generale prevista per questo nuovo inizio settimana. Il bel tempo si manterrà ancora grazie ad un campo di alta pressione presente anche nei giorni scorsi che continuerà a favorire la presenza di sole e di caldo sul nostro territorio. Anche per questa giornata però una possibile eccezione sarà nei rilievi dove l'instabilità pomeridiana darà luogo a qualche acquazzone o breve temporale. In questo contesto le temperature minime si stabilizzeranno mentre le massime saranno in un ulteriore lieve aumento. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio come si presenterà la giornata di lunedì nel nostro territorio vicentino. Nella notte e mattinata potremo godere ancora su tutti i settori del cielo sereno e limpido che tanto abbiamo aspettato. Nel pomeriggio non ci saranno particolari variazioni della condizione meteorologica in pianura mentre sui rilievi anche oggi si potranno formare delle nuvole più compatte di tipo cumuliforme che tenderanno a dar luogo a fenomeni di breve durata. La serata ci regalerà una buona visibilità e un cielo particolarmente stellato ovunque. Come già detto prima le temperature saranno in lieve aumento con valori quasi al di sopra della media del mese. Potremo infatti notare temperature tra i 28 e i 29 gradi di massima. Anche oggi siamo arrivati ai saluti. Grazie per l'attenzione. A domani. Hashtag